Musica Ben trovati, nella controversa vicenda venutasi a creare tra cura di Amalfi e il centro antidiabetico Fra Gerardo Sasso, sembra che ancora una volta le reali necessità del cittadino malato vengano messe in secondo ordine rispetto agli interessi privati. Il centro è stato sfrattato, ne chiediamo le ragioni al responsabile dottor Bonaventura Gambardella. Il motivo è che non abbiamo più gli spazi dove operare perché la proprietà e la cura di Amalfi tramite la fondazione Mariano Bianco ha richiesto in maniera perentoria i locali per poterli destinare poi a uno studio legale dell'avvocato Buonocore. Voi ovviamente avevate un contratto che scadeva? Allora, diciamo la scadenza, diamola per buona questa prima interpretazione del giudice perché ovviamente io sono stato costretto non per mia volontà ma perché la fondazione sempre tramite l'avvocato Buonocore mi ha citato in tribunale perché voleva i locali nell'immediatezza, questo già a metà anno del 2014. E quindi io sono stato costretto a difendermi ed è venuto fuori che quantomeno fino a gennaio 2015 ero a pieno titolo dentro. Poi prossimamente insomma il giudice si esprimerà. Però la fondazione sempre in mezzo all'avvocato Buonocore ha richiesto in maniera perentore e per motivi di urgenza i locali. Io ovviamente, noi abbiamo spiegato, io dipendente insomma alla cura, soprattutto al vescovo perché il presidente della fondazione i motivi, abbiamo chiesto innanzitutto i motivi alla quale insomma la nostra domanda in realtà non c'è mai stata data una risposta esauriente fino a che poi in tribunale non è venuto fuori un contratto di locazione stipulata dal vescovo in persona che ha firmato un contratto di locazione all'avvocato Gaetano Buonocore di tutti i locali, i medesimi locali che noi occupiamo come centro antidiabete. Il giudice per scaduto contratto, sua espressa urgente richiesta della fondazione Mariano Bianco dispone ordinanza provvisoria del rilascio dell'immobile. Alla nostra domanda sull'urgenza del rilascio locali, come avete sentito il dottor Gambardella sostiene che questi fossero già stati dati in locazione ad un certo avvocato Gaetano Buonocore. Lei ha fatto degli ulteriori passi, si è rivolto alla prefettura? Sì, considerata la situazione che si stava venendo a creare per un fatto di tutela della salute pubblica perché ci sono delle prescrizioni da fare, alcuni piani terapeutici che nemmeno il medico di famiglia può fare per salvaguardare il posto di lavoro delle figure professionali, insomma, infermieri, medici, insomma, segretari. Abbiamo cointeressato la prefettura per quale motivo? Anche perché fosse un terzo elemento che potesse aiutare a dipanare la vicenda perché il Vesco ha sempre dato risposte vaghe ed evasive, insomma, e quindi per aiutarlo nella valutazione della vicenda. La prefettura come si è mossa al riguardo? Il vicario, perché attualmente il prefetto ancora non è stato nominato dal Ministero, personalmente si è preoccupato, hanno fatto prima delle indagini, penso anche tramite i carabinieri, poi ha personalmente telefonato in Curia, è stato poi dirottato a parlare con l'economo della Curia. L'economo della Curia poi ha adotto una motivazione diversa da quella che sono gli atti, anche se appunto poi il vicario gli ha fatto notare che i documenti dicevano ben altro, però appunto sono state alla fine risposte molto generiche ed evasive, non sono entrati nel merito. Il prefetto a questo punto mi ha riferito e mi ha anche appunto sollecitato a chiedere un appuntamento all'economo della Curia. Il dottor Buonaventura Gambardella ci ha riferito che si è incontrato con l'Arcivescovo Orazio Sorricelli in due diverse occasioni per poter chiedere di rostare nei locali, presentando documenti quale buste paga, fatture dei ricavi, che dimostrano quanto il sottoscritto economicamente ci rimetta, pur di non togliere ai pazienti ultra 65 anni un servizio per la salute. Il Vescovo, secondo quando affermato dal dottor Gambardella, si è dimostrato disponibile ad informarsi sull'indera vicenda e lo ha rassicurato sull'eventuale conclusione positiva della stessa. Quando lo stratto è divenuto esecutivo, sconfessando la disponibilità del Vescovo, ha chiesto quantomeno una proroga di qualche mese per poter trovare un nuovo locale. L'impegno da parte mia c'è stato anche nel cercare di, come dire, di spiegare, perché a volte si possono creare dei fraintentimenti, quindi il mio primo pensiero è stato quello di evitare fraintentimenti e quindi di spiegare e chiedere l'attenzione del Vescovo sulla vicenda, quindi spiegare quale potevano essere le nostre ragioni, le nostre nel senso dei pazienti e dei dipendenti, più che mie personali. L'economo l'ha incontrata? Sì, ci siamo incontrati, se non sbaglio, otto giorni fa. Gli ho ribadito i nostri motivi, lui li ha recepiti personalmente. Io gli ho anche detto che, vista la situazione particolarissima che si è creata, incresciosa, insomma, per carità non gli richiedo assolutamente il rinnovo del contratto o altro, ma insomma di dare la possibilità, quindi tempi un po' più lunghi affinché si avviasse questo trasloco, questa chiusura, insomma, far sì che non sia meno rocambolesca sia per i pazienti sia per i dipendenti. Il Vescovo, presidente della Fondazione Mariano Bianco, più volte contattato per un'eventuale intervista, si è sempre rifiutato di intervenire, non volendo, a suo dire, scendere a bassi livelli. La Curia ha poi emanato un comunicato stampa, nel quale si fa intendere che il canone di 258 euro è cifra irrisoria per sei vani nel centro di Amalfi. Non chiarisce che il contratto stipulato dal dottor Gambardella con i Vescovi precedenti prevedeva un canone calmierato, in considerazione del capitale investito dallo stesso Gambardella, per la ristrutturazione dell'intero edificio, e la manutenzione ordinaria e straordinaria sempre è a carico di quest'ultimo. Il comunicato continua affermando che al centro antidiabetico è stata intimata disdetta del rapporto locativo già nel dicembre 2005. A quanto ci risulta, la disdetta non è valida, perché deve essere inviata un anno prima della scadenza. Il contratto scadeva il 1 gennaio 2006. La disdetta doveva essere eventualmente inviata entro il 31 dicembre 2004. Ancora dal comunicato stampa leggiamo che non è vero che i diabetici devono recarsi fuori costiera per avere assistenza, perché il servizio è fornito dalla ASL sia a Castiglione di Ravello che a Maiori, dove per l'assenza di scale le strutture sono più accessibili. Perché il centro antidiabete, a differenza dell'ambulatorio diabetologico che è presso l'ASL, è un centro che coinvolge più figure mediche, coinvolge oltre al diabetologo, coinvolge un cardiologo, un neurologo, un oculista, e il paziente è seguito in maniera integrata, non come semplice ambulatorio. Gli ho spiegato, ovviamente lo sa il vescovo, la conformazione della costiera che crea di per sé dei disagi dei pazienti, perché sono di difficile accesso in tutti gli ambienti. L'ambulatorio dell'ASL non è tutti i giorni, ovviamente già c'è una certa utenza, quindi far aumentare l'utenza avrebbe creato comunque disagio a lungaggini i tempi di attesa, quando i pazienti hanno bisogno di essere seguiti molto spesso, anche tempestivamente, e comunque di essere, come dire, accolti, perché il paziente ovviamente è una malattia cronica che dà danni nel tempo e quindi se si scoraggia il paziente nel frequentare un ambulatore è ovvio che poi, diciamo, la salute ne risente, perché il diabete insomma è una malattia che richiede una costanza nella... Anche perché i vostri pazienti sono tra i meglio curati, diciamo così, della, posso dire, della campania o esagerato? No, diciamo, essendo una realtà piccola ovviamente è più facile seguire i pazienti e i pazienti che seguono con regolarità sono quelli che poi hanno i migliori risultati e da uno studio fatto qualitativamente, insomma c'erano degli indici proprio biomedici, biomorali, ci dicono che, appunto, rispetto a tutti gli altri centri della campania i nostri pazienti sono quelli che hanno un livello, diciamo, terapeutico migliore e questo ovviamente ci inorgoglisce. Il comunicato si conclude con una nota stringata i locali saranno destinati alle attività istituzionali dell'ente Anche quest'ultima affermazione fa nascere mille domande Loro non vogliono rinnovarvi il contratto ma il fatto che vogliono fare una casa di accoglienza, diciamo così non cozza con questo contratto che è stato già firmato all'Avvocato Buonocore? Appunto, questo è, come dire, a noi sembra umani sembra l'assurdo, insomma, sembra strano insomma che tra persone adulte ci raccontiamo queste cose i fatti sono questi c'è un contratto di locazione già firmato a suo tempo a favore dell'Avvocato Buonocore e questo, insomma, poi tutte le altre idee sono nobilissime ma i fatti sono questi Anche l'Avvocato Buonocore è stato contattato per un'intervista e nonostante le nostre sollecitazioni a tutt'oggi non ci ha dato risposta ma quale ruolo riveste l'Avvocato in tutta questa storia controversa? L'Avvocato Buonocore è il legale rappresentante della Fondazione Mariano Bianco che già nel febbraio 2014 ha preso contatti con il Dottor Gambardella Allora, diciamo che sì, l'Avvocato Buonocore venne da me, così personalmente, a chiedermi la possibilità di avere dello spazio per poter mettere il suo studio legale io gli spiegai, ovviamente anche facendo riferimento a dei fatti che erano noti alla Curia che io avevo proprio come spazio la superficie minima necessaria per poter svolgere l'attività e quindi non era una mia mancanza di volontà ma era proprio un requisito indispensabile per cui non potevo cedere nemmeno un centimetro quadrato e questo è stato appunto l'anno scorso dopodiché, dopo 20 giorni mi sono visto recapitare una citazione per il rilascio immediato dei locali quindi bisogna capire con chiarezza che lei viene messa alla porta, diciamo così, tra virgolette per fare spazio a questo Avvocato Buonocore quindi una struttura medica di utilità urgente e sociale sicuramente a tutela della salute pubblica viene messa in secondo piano per fare spazio a uno studio di Avvocati Vogliamo sottolineare che in un eventuale contenzioso la legge prevede una mediazione tra le parti il 6 giugno 2014 davanti al mediatore dottor Gianni Di Girolamo si ritrovano l'Avvocato Gaetano Buonocore rappresentante la Fondazione e l'Avvocato Riccio per il Fra Gerardo Sasso quando il giorno prima, 5 giugno 2014 la Fondazione aveva già stipulato un contratto di fitto dei locali in uso al centro antidiabete al medesimo Avvocato Gaetano Buonocore per salbirirvi il proprio studio legale contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Amalfi quello che più ci stupisce è l'ammontare della cifra pattuita per la locazione 600 euro il dottor Gambardella si è sempre detto disponibile all'aumento del canone addirittura i dipendenti del centro antidiabete si sono offerti di autotassarsi per aiutare il loro direttore sanitario questi fatti a voi le conclusioni a noi sembra che ancora una volta a pagare le conseguenze siano i soliti poveri cittadini è tutto dal Tg Tramonti Angela Cioffi è un fatto increscioso anche perché io ho avuto mia mamma diabetica da tanti anni e tante volte l'hanno tenuto in vita proprio loro che sono persone eccezionali quindi effettivamente è negativo visto e considerato che era veramente positivo il centro di Amalfi di cui ci servivamo da anni quindi non croisco i motivi per cui venga chiuso se alla base ci fossero dei motivi effettivamente validi per cui va ad essere migliorato ma se dovessero essere dato in affitto a privati è a dir poco